Consigliere, lei si è già espresso giovedì al dibattito aperto ai commercianti riguardo al FUX, ma cosa pensa dell'ultima indicazione di Filipponi? Non si procede con l'annullamento della delibera piuttosto alle modifiche? Guardi, noi non possiamo non essere dalla parte dei cittadini. Quindi questo programma, questo piano è qualcosa di molto impattante per tutta la cittadinanza. Si vanno a creare dei limiti e delle difficoltà di prospettiva in una città e un centro in particolare che sono già duramente provate da crisi e da tutta una serie di difficoltà che si sono verificate negli ultimi anni. Quindi è l'ultima cosa da fare, proprio limitare, semmai al contrario bisognerebbe ampliare la possibilità di circolazione e di parcheggio. Quindi è una necessità che viene dalla cittadinanza, da tutta la cittadinanza, in particolare dalla fascia più debole. Quindi noi continuiamo a ritenere che debba essere annullata questa... La cosa sicuramente potrà essere anche trattata e quindi valutare la possibilità di una richiesta referendaria, quindi di un referendum facciamo in modo che siano i teramani a dire se su questo piano di mobilità che vuole imporci questa giunta e questa maggioranza, si va nella direzione giusta quella sbagliata. Noi siamo convinti che sia sbagliatissima e quindi sosterremo in tutte le maniere l'annullamento. Io ho già presentato delle osservazioni in merito. Comunque le posso dire che un referendum sarebbe giusto per interpellare la cittadinanza su una cosa che avrà un impatto di lungo periodo. E quindi non è sbagliato pensare che adesso si stia riprofumendo su una questione di secondaria importanza, perché come è stato ben più volte sottolineato il Pums non è una priorità per Teramo, ci ritroveremo ad affrontare la stessa questione che ci sta da per l'ospedale, quasi. Ma guardi, nello specifico, qui siamo di fronte a un qualcosa che ci viene quasi, ci viene sostanzialmente imposto. Bisogna ascoltare i cittadini, sempre ascoltare i cittadini. Un confronto genuino e vero che non ho registrato negli incontri che ci sono stati. Bisogna ascoltare veramente, quindi il sistema più diretto a questo punto non può che essere quello di un'iniziativa di referendum cittadino. Grazie. Grazie. Grazie.